I tempi della Commissione che sta operando in Tribunale, che a quanto ci è noto sapere, saranno ancora di una settimana a dieci giorni. La Giunta c'è, è in pector, abbiamo operato tranquillamente, ovviamente tenendo conto delle quote di rappresentanza, ma non quote matematicamente espresse. Quindi siamo proprio alle battute finali, per rispetto proprio del lagone consigliare, per rispetto delle parti politiche, parti politiche che io ho convocato dalla decimalista alla prima lista, anzi sono partita proprio a convocare le liste che non hanno prodotto consiglieri, proprio perché il campo largo ha sempre avuto e ha sempre propugnato l'idea della coprogettazione in ogni fase.